Ciao a tutti dal Salutatore, eccomi qui con la bravissima attrice e bellissima Francesca Saiano per voi. Ciao a tutti amici, un saluto, un bacio e che cosa possiamo dire? Siamo contenti di essere qui e di essere tra i salutati del Salutatore. Io ti ringrazio, con un grandissimo onore da parecchio che ti stavo vicino per farti fare questo saluto. Seguitela perché è bravissima, tante novità, tante news. Troppo buono, troppo buono, troppo buono. E c'è una tante ancora che devono uscire, perciò seguitela, ricordiamo i tuoi contatti su internet, i miei contatti, su Facebook, poi c'è anche la mia pagina, sempre su Facebook e poi se andate su Google vedrete tantissime cose. Francesca Saiano con la J li contiamo, non vi sbagliate. Saiano con la J. Perciò mandiamo un saluto a tutto il web, a tutti i tuoi fans. Un saluto a tutti i miei fans, veramente, se ce n'è qualcuno in questo momento. Ed è pieno. Un bacione e seguitemi sempre e spero che vi faccia piacere seguirmi ancora. A presto. Ciao. Ciao. Salvatore e Francesca. Ciao. Ciao ciao.